Amici di Android Blog, siamo allo stand Alcatel del Mobile World Congress 2014. Per farvi vedere un tablet parliamo dell'Alcatel Pop 8, come dice il nome, 8 pollici di display con risoluzione HD 1280x800 pixel. I modelli presentati saranno sia in versione Wi-Fi che in versione 3G, questo lo diciamo subito. Andiamo a vedere, continuiamo le caratteristiche fisiche, abbiamo una fotocamera frontale da 0.3 megapixel, sotto i tasti sono sul display, a sinistra lo sportellino che copre sia l'espansione microSD che la SIM perché questa sarà probabilmente la versione 3G, dietro la camera da 2 megapixel senza flash e probabilmente anche a poco fisso. Qua in questa stondatura l'accensione e spegnimento blocco sblocco è il tasto bilanciere del volume, sopra il jack da 3,5 per le cuffie e sotto semplicemente il microfono. Lo speaker invece si trova in questa zona in basso del retro del tablet. Il display comunque ci sembra una prima occhiata molto bello, sia a livello di definizione, nonostante su un 8 pollici la risoluzione HD risulta comunque sufficiente. Possiamo vedere come altre caratteristiche il processore che muove tutto è un quad cord a 1.3 GHz, però Cortex A7. Riusciamo ad andare a vedere nelle impostazioni, se le troviamo, la versione di Android, la versione di Android è la 4.2.2. La memoria integrata, ricordiamo, espandibile, risulta essere di 7,40 GB disponibili. L'interfaccia è quella che abbiamo visto anche sugli smartphone di Alcatel, quindi comunque innovazione anche dal punto di vista estetico. Per questo preview di questo interessante tablet è tutto, ma vi vogliamo far vedere anche il modello più piccolo del tablet chiamato Pop 7. Se riusciamo, questo è il Pop 7, le caratteristiche variano anche a livello di hardware, perché abbiamo un processore dual core da 1.3 GHz, sempre Cortex A7. Per quanto riguarda le altre caratteristiche fisiche, la fotocamera frontale è nella medesima posizione, anche sotto non cambia nulla, anche lateralmente non cambia nulla, mentre quella posteriore si sposta sul lato sinistro ed è da 2 megapixel, mentre quella frontale rimane da 0,3. Anche qui i tasti del bilanciere del volume e per il blocco e sblocco del terminale. La risoluzione di questo display 7 pollici è un 1024 x 600 pixel. Anche qui andiamo a vedere un attimo come il giro al tutto ci sembra abbastanza bene, ma ne approfittiamo per vedere anche qua la versione di Android su questo, versione 7 pollici, che è la 4.2.2, mentre la memoria interna è di 7,40 GB. La batteria è da 3240 mAh, quella della versione 8 pollici ci sembra fosse 4000, ma con precisione non ce lo ricordiamo. Questo tablet quindi va a completare la gamma tablet pop di Alcatel e per questa preview dei tablet è tutto.